Dopo una settimana dallo scatto provocatorio che diversi cittadini di Agropoli, Castellabate, Montecorice, Torchiara o gli Astro Cilento hanno realizzato davanti l'ospedale per denunciare ancora una volta la problematica legata all'assenza di una sanità efficiente ed efficace che possa dare risposte ai tanti utenti del comprensorio, arriva da parte del neosindaco di Castellabate, Marco Rizzo, una risposta in merito alla sollecitazione fatta dalla giornalista televisiva di Cilento Channel, Raffaella Giaccio. Mi attiverò già dalla prossima settimana nelle sedi opportune per tutto quanto si potrà fare. Lo scrive il primo cittadino di Castellabate in riferimento all'ennesima provocazione lanciata sui social attraverso un post che lo vede protagonista in prima persona. Iniziare il suo mandato da primo cittadino partendo da un'azione concreta verso la struttura ospedaliera agropolese sarebbe un esempio e un segnale forte per l'intero territorio, scrive la giornalista nel post su Facebook. Intanto la petizione lanciata da Claudia Costa, napoletana di origine ma cittadina anche del Cilento e in particolare di Ogliastro Marina, dove ogni estate trascorre le sue vacanze estive continua a crescere di numero. Oggi siamo a 40.155 firme. La petizione è indirizzata al Ministro della Salute Roberto Speranza e al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Claudia ha sentito forte il dovere di sostenere quanto richiesto da Carmine Gorga, papà di Tommy. Il suo appello disperato nel giorno più triste della sua vita non può e non deve essere dimenticato. Grazie.